Putin pronto ai festeggiamenti, ennesima vittoria della Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue congratulazioni alle forze armate russe per il successo, ottenuto nella conquista di Avivka, una città situata nella parte orientale dell'Ucraina. Questo riconoscimento da parte del capo di Stato segue le informazioni ricevute dal ministro della difesa Sergei Shoigu, riguardo alle operazioni militari svolte nella regione. La dichiarazione, resa nota dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov e riportata dalle agenzie di stampa russe, evidenzia l'importanza attribuita da Putin a questo specifico successo militare, definito come un'importante vittoria. La presa di Avivka rappresenta, per il Cremlino, un passo significativo nel contesto del più ampio scenario conflittuale che vede coinvolta la Russia in Ucraina. Questo sviluppo si inserisce in un quadro di continua tensione nella regione, alimentando le preoccupazioni internazionali riguardo alle implicazioni di sicurezza, umanitarie e politiche derivanti dal conflitto. La reazione della comunità internazionale a questo annuncio e le potenziali ripercussioni sull'andamento del conflitto rimangono da osservare, così come le risposte dell'Ucraina e dei suoi alleati. Le congratulazioni di Putin alle forze armate evidenziano la determinazione della Russia a perseguire i propri obiettivi strategici in Ucraina, nonostante le critiche e le sanzioni imposte da numerosi paesi in risposta alle azioni militari russe. La situazione in Ucraina continua a essere un punto focale di tensione geopolitica, con impatti che si estendono ben oltre i confini regionali. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Grazie!